Signore e signori buonasera, questo è GTA Online, c'è un po' di foschia? Non si sa bene, perché io sono Surry e oggi andiamo a racimolare le risorse per iniziare il nostro laboratorio di acidi, perché abbiamo rubato questo tir enorme, questo van, questo camper alla Walter White con tutto il materiale per fare gli acidi, e ha detto guarda che non è come la metanfetamina, quindi ci ha fatto pure l'occhiolino a dire non è Walter White, è più difficile, bisogna fare una roba che vede, è un cazzo di laboratorio, e io dico va bene, va benissimo. Però bisogna rubare il materiale, quindi, ora non so se bisogna sceglierne uno o l'altro, ruba l'equipaggiamento laboratorio di un magazzino vicino, ok, come facciamo? Devo entrare qui? Devo, ah devo entrare lì, ma ragazzi io, ma è una missione molto randomica che tu entri così, ma che dire, siamo qui, giochiamo, entriamo, a premire per avviare la missione di allestimento e occupaggiamento per il laboratorio di acidi, let's go, let's go, è così che si fa, si avvia una missione random, senza sapere niente, ok, allora la musichetta mi fa pensare che potrebbe esserci qualcuno, oh no ha dato l'allarme, merda, questo signori è il problema principale di non avere, come si chiama, di non avere i silenziatori, ma devo usare i muletti? Ma che cosa mi stai dicendo mai nella vita? Dov'è l'altro bro? Eccolo qua, perfetto, ora che sono morti tutti, come cazzo faccio? Ah, devo metterli sul camion, palese, ma devo fare la missione del muletto, il flatbed, ma li mortacci, come faccio? Io faccio così, come tiro su? E? No? Q? No? X? No? Ah, maiusc? Perfetto, allora facciamo un giro, eh, sul rimagazziniere prima di GTA 6, incredibile, mettiamolo prima qui, Noci, forza un po', oh, 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 non sale, non sale, non ce la fa salire, devo prendere in corsa? Forza un po'? Ok, allora mettiamo qua, vai, control, oh, 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 che cazzo succede? Ma li mortacci? Perché? Non ce la fa? Forza un po', fai un po' shift, ok, riesci ad andare indietro? No, è bloccato, non ce la fa? ok e uno madonna un disastro ho comparso un bro ogni volta che faccio qualcosa compare un bro non ho capito sta roba fai shift bello alto ok madonna il magazziniere tocca a fare ok ecco qua ottimo gira il muletto mettiamo qua in alto sali un po perfetto fai control un po più avanti un po più avanti non ce la fa e control no 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 portacci tua perché non ce la fa deficiente ok ora paese arriverà qualcun altro bibi bibi con disastro qui è fatto una strage allora fai control tino bello basso o shift così butta dentro o no un po più basso o più basso ok tira su è uguala magazzino simulator aia e passa la paura allarme padre ora dovrò no 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 stava cadendo tutto fermo lì perfetto ok sali sul flatbed la chiatta saliamo sulla chiatta e ce ne andiamo chiatta con le ruote ok e niente io volevo usare la mia nuova macchinina tutta così invece tocca lasciarla lì ha trattato abbiamo coperto quel con il telo di lusso chi è qua che spara oh cazzo no 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 è così che si muore dax che cazzo mi chiami a fare che sto lavorando io perché non muore mortacci mia che non guardo dove cazzo vado muori che non muore e pure l'incidente levati di mezzo ok sono bloccati almeno quello appare che c'ho mezza vita perché ok ora sì che è morto per un chilometro di strada stavo per morire anzi guarda facciamo così salute munizioni snack fammi un bella così ho finito i giubbotti perfetto perfetto va bene senza troppo sbatti in realtà chi cazzo è mutmo sono mut ok certo davvero insieme però non ti preoccupare porta il gruppo aggiamento ci siamo ci siamo oh oh bisogna fare il giro lungo però o cazzo stanno arrivando altre auto noi ce ne sbattiamo il cazzo siamo arrivati ma facciamo anche il drift nella terra madonna chi ci ammazza più ok arrivati easy vabbè dai poteva andare peggio è missionerà per questo ce l'ha fatta fare così perché dice non ti do neanche il fastidio di dire devi fare chissà cosa parti da dax ok allora entriamo nell'officina parliamo con mut installa equipaggiamento 750 mila dollari ma di mortacci ma scusa tutte le missioni che ho fatto vabbè va bene facciamoci fare un bel tour da mut ulteriori modifiche e per la moto per le consegne possono essere acquistate va bene parliamo personalizza il laboratorio personalizza personalizziamo migliori per il laboratorio equipaggiamento chiama dax completa 10 incarichi per sbloccare l'acquisto ma gli mortacci blindatura blindatura pesante perché abbinatura parla che ce l'ho già abbinatura pesante mina di prossimità in che senso armi da speronamento godo la madonna certo armature certo non so se ha senso è fare tutte queste modifiche possono aumentare tipo il trasmissione da gara sospensioni sospensioni basse da strada sportive sportive per il cambio un top no personalizziamo la moto è una bella armatura copertura trasmissione ma poco cambia mettiamo dei freni sensati motore top marmitta belle queste a doppia uscita sto bruciando soldi ragazzi come se non ci fossero domani carinatura no va bene questa parafanghi serbatoio e questo fa un po da criminale manubrio lasciamolo non ci interessa di breve trasmissione siamo trasmissione super turbo mettiamo il turbo ruote possiamo lasciare stare ok usciamo dall'officina e quindi questa è proprio per modifiche varie poi abbiamo la nostra moto possiamo entrare nel laboratorio di acidi vediamo com'è laboratorio di acidi ci sarà una cutscene palese perché l'ho appena comprato comunque poi la madonna è enorme ok va bene ma come funziona questa è la domanda devo recuperare delle cose per forza per capire anche se posso avere ah no dal mio capocorco va bene sicuramente sarà da recuperare materiale ok chiama matt o inizia per procurarti le robe ok questo a quanto pare dovrebbe essere un business molto single player friendly perché non hai diversi veicoli fai tutto dalla moto che è una figata sì sì va bene mh tanto questo non è un posto in cui passeremo tanto tempo eh ah posso anche dare una mano io a produrre acidi va bene va bene va bene allora qui abbiamo prodotto da vendere qui abbiamo le scorte che non ci sono beh in teoria però noi dovremmo avere cosa a disposizione incrementare la velocità di produzione dell'acido ok cosa vuol dire ah che mi sto mettendo a lavorare vabbè del senso ho delle scorte non so non cos'è ho delle scorte cioè ho delle robettine piccoline lì ma onestamente ma devo per forza prenderle io la merce no le scorte o può farlo anche matt scusa eh bro acquista di 60 mila dollari no 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 perché sospendi riprendi la produzione avevo sbagliato a cliccare acquista delle scorte sì ok ok cioè io ho pagato 60 mila dollari come esco da qui dove la porta scusami ah eccola cioè ho pagato 60 mila dollari esce vai la motrice ah pure e giustamente possiamo spostarci possiamo uscire da qui facciamo il giro sul nostro laboratorio di acidi mica male mica male ora non so se dietro riesce a lavorare con questo mood oh 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 non ci cappottiamo eh che qua è un disastro fermo no fa un po' di manovra bello un 6x6 6 ruote motrici madonna una bestia ora posso stare fermo qui premo control sinistro tengo premuto control sinistro e ora sono nuovo nel laboratorio incredibile incredibile ora non abbiamo merci non abbiamo scorte non c'è matte neanche ah sì matte sta comunque lavorando ma io non posso prendere io le scorte no sono in consegna al momento va bene tocca aspettare quindi eh aspetteremo cosa vuoi che ti dica non è possibile procurarsi scorte mentre c'è un ordine di matte già attivo ah ma quindi posso recuperarle anche io non ho mica capito non ho mica capito so che abbiamo il laboratorio di acidi qua in mezzo che non è il massimo guarda fammi entrare nella motrice spostiamolo da qua potremmo anche tenerlo da dax obiettivamente e poi c'è da dire una cosa cioè ora io lo sto spostando e va bene ma poi quando rientro nella sessione lo trovo dove l'ho lasciato dubito sposterà sempre non posso accedere al laboratorio mentre sono qui perché no ah c'è anche delle regole va bene la vera domanda è come fanno a consegnarmi le scorte se non sanno dove sono eh questo è un problema allora vediamo se in cima della montagna possiamo lavorare secondo me si e infatti godo ragazzi ho speso una maria di soldi avevo 3 milioni e 3 euro mi è rimasto un milione mi è rimasto un milione e duecentomila ho speso due milioni tra una cosa e l'altra mortacci beh ho speso 750 mila per questo business che però dovrebbe essere un ottimo business io voglio sperare altrimenti che cazzo l'ho fatto a fare tutte le missioni di dax tra l'altro madonna e possiamo aspettare ci siamo un po' uno spreco aspettare posso sedermi per terra? no ah guarda che c'è anche la moto qua dietro pronta make sense tutto cromato è un bel camioncione a questo comunque oh Matt dove sono le mie scorte? sono in consegna è nulla lasciamolo qui signori non so che dirvi ah cazzo no qua sono i binari non è neanche una strada no no spostiamolo che tornare qui poi è un disastro il cazzo dice guarda fa fatica a salire figurati con queste scarpe non puoi fare con il mocassino sta salita deficiente va bene bene factor sulla benefactor però cos'è un V12 supercharge? V24? che ha 24 cilindri sono tanti bro ma qui? stanno costruendo case? bello oh merda ah dai mettiamoci qua vicino al laghetto questo si che è un ottimo ufficio va che bello sarei tentato di aspettare la consegna ma tanto anche una volta arrivate non potremo fare la missione perché? perché ci vuole il tempo a generare l'acido però cazzo ero curioso di fare questa cosa per provare a vedere come funzionava vabbè lo faremo prossimamente signori non so cos'altro dirvi domanda posso rubare altre scorte per caso? perché ah no non c'ho più l'altro pallino di acidi peccato poteva essere interessante magari mi dava un upgrade a a tutto a tutto il mood cioè alla velocità voglio dire perdonami perché c'ho un magazzino veicoli di proprietà cosa vuol dire magazzino veicoli di proprietà? cosa vuol dire? qua c'ho il garage ma questo è un garage di Eclipse Boulevard cosa cazzo vuol dire? garage magazzino veicoli di proprietà ma il mio magazzino ma in che sen- non l'ho capito è un garage che ho comprato qualche tempo fa e di cui ho completamente dimenticato l'esistenza? probabile estremamente probabile che è sto posto? allora non c'entro con la macchina ma- aaaah aspetta forse è un'attività addirittura? oddio sai che non mi ricordo minimamente o è un- è un'attività minchia raga quante attività c'ho cazzo se la ricordava questa? sembrava strano infatti c'era scritto garage ma garage non era un garage un magazzino dei veicoli diventa sì o avevo completamente rimosso signori ma rimosso in maniera proprio prepotente aaaaa che posso esportare le auto vabbè bello oh ad hoc hack 2 no chiedo non voglio consegnare niente state zitto usciamo da qui ero confuso ero confuso va bene comunque signori per questo video in realtà è tutto abbiamo fatto la missione dei muletti abbiamo comprato la cosa degli acidi penso di aver sballato con la consegna delle merci dovevo farlo da solo anche per vedere che tipo di missione era sarà stata una missione molto standard eh palesemente però mi avrebbe fatto piacere portarla a termine da solo oh le scorte sono arrivate godo come un cazzo di riccio andiamo a vedere domanda ma se io chiamo Matt nella mia testa se io ho dei contatti e tra i miei contatti c'ho Matt e lo chiamo lui dovrebbe venire da me con non c'è ah Matt ok se io chiamo Matt Moot Moot come si chiama Moot sospendi acquista scorte procurati le scorte ah bello che posso farlo anche tramite telefono un po' oh bastava che andavi dritto bro stai calmo un po' meno bello che non mi può spostare il laboratorio avrebbe avuto senso guarda visto che abbiamo il 4x4 saliamo qua sopra ce ne sbattiamo il cazzo comunque incredibile questa macchina è davvero un carro armato allora dov'è il mio laboratorio eccolo qua si gode si gode parcheggio lì un secondo e dritti dentro allora io ho aumentato la produzione quindi oh guarda siamo carichi 60.000 eh premi e pre procurati delle scorte eh prossimamente faremo così però ora siamo pieni devo fare questa cosa quando avevamo già delle scorte a disposizione vero palese va bene signori ma per questo video è tutto bello sono stato oggi sulla schiena ma il mio più bello ci vediamo prossimamente sempre qui su Suri and Chill ciao a turuturutti grazie a tutti